Mi piace Klopp e può fare ciò che vuole, perché ho un grande respeto e considero che sia uno dei migliori coach del mondo e mi piace il suo comportamento. Quando diceva qualcosa di 99% con lui. In questa situazione credo che c'era un penalti chiaro. E ho detto al riferio, credo che in una buona forma, quello che credo al momento.